Le medaglie verranno consegnate da Paolo Angelini, presidente studentesca Cassa di Risparmio Sirieni. Terza classifica la medaglia di Crozio con la misura di 3.90 per la Bracco Atletica Sara Bruzzese. Seconda medaglia d'argento per l'Axi Italia Atletica, 4 metri per lei, Sonia Malanisi. La prima posizione della medaglia d'oro è per il Cusa Misa Atletica Cassina con il 4.05. Vediamo la classifica, potremmo subito vedere, dopo 15 gare la classifica femminile perché c'è il testa a testa tra l'Axi e la Bracco. Vediamo, adesso è testa a taxi con la 103.